Presente in questa rassegna il noto imprenditore bolognese Michele Laganà, ormai abruzzese d'adozione. Cosa ci fai in Abruzzo e precisamente a Fossacesia? Adesso sono passato a salutarti, tu mi hai rovinato perché lo sai che devo scendere tutto il fiume di Pescara fino al ciclo canottieri dalla Pescara, da dove nasce a Popoli. E quindi in beneficenza per Fiaba, e quindi tanto ti ringrazio perché Fiaba, lo sai, abbattimento barriere architettoniche, gli hai dato uno spazio e ti ringrazio. Io sono passato di qua per salutarti, tu mi hai fatto mangiare, il brodetto di tutte le regioni, mi hai fatto bere, adesso devo andare e partire a cercare di arrivare giù. Quindi scappo prima, ti saluto e ti do un grande abbraccio perché sei un vero amico in un posto stupendo, la tua trasmissione è bellissima e sei uno dei pochi che sta cercando di sviluppare la nostra tradizione in tutti i posti. Quindi un plauso grandissimo perché noi dobbiamo iniziare a vendere anche molto la tradizione e le nostre origini e quello che hai. Tu sei uno che sei molto attento e difatti nel settore dell'alimentare, della ristorazione, così credo che stai dando un contributo eccezionale. La riscoperta dei 150 anni dell'anniversario di Gabriele D'Annunzio? Su quello quando partirà la festa dal primo dell'anno che ci sarà, noi, io come luogotenente della tavola di Riccione, dei fratelli della Costa, farò quest'impresa che cercherò di battere il record che è stato fatto da un pescarese, ma mi sento anche io un pescarese, tu lo sai, da Pescara fino a Gardone, al Vittoriale, con un motoscafo di 4,20 metri lo faccio e se stiamo studiando non lo so se ci riusciremo un motore elettrico. Però è un motoscafo degli anni 70, quindi è stato fatto 50 anni fa da un pescarese eccezionale che è riuscito nell'impresa con questo motoscafo che è arrivato sul Garda. Io cercherò di fare uguale. E allora in bocca al l'uomo. E ti saluto e ti ringrazio di tutto anche se mi mandi via un po' ubriaco. Con 36 preferenze, il ristorante La Fattoria del Mare di Riccione. Siapò, siapò, Sergio, lo chef, la signora, tutti al centro del proscenio per incorniciare questi momenti celebrativi del primo festival dell'Adriatico, primo festival del Brodetto. Eccolo qui, questo bel quadretto di famiglia, facciamo e scattiamo delle belle foto che saranno immortalate sul nostro sito. Le parole conclusive le facciamo dire all'amico Sergio. Meriterebbe mia moglie perché lei è in cucina e comunque parlo anche per lei. Veramente è stato emozionante. Io vi ringrazio. Sicuramente non meritavamo il primo premio o comunque tutti i primi premi sono stati molto bravi. Angelo Allegrino, presidente della Conf Commercio di Chieti, come hai trovato questo festival del Brodetto dell'Adriatico Trofeo Pescheria all'Acquario di Fossa Cesia? Meravigliosa organizzazione ma non poteva essere diversamente perché quando c'è Paolo Minucci a organizzare il successo è assodato. Io ti devo ringraziare a nome di tutti i commercianti della provincia di Chieti perché questo tuo lavoro ci porta una visibilità incredibile non solo della provincia ma della regione e quindi questo te ne va dato atto. Io sono convinto che questo tipo di manifestazione porta turismo, porta la conoscenza dell'enogastronomia della nostra regione, porta dei rapporti umani che sono sempre molto importanti e sono di base in qualsiasi attività si fa. Quindi io dico continua così perché le autorità ti devono dar atto che il lavoro che fai per questa regione è impagabile. Quindi sono convinto che tu vai sempre avanti perché hai una forza eccezionale, hai un'inventiva che ti ha portato sempre successo e sempre molto più successo ti porterà. Poi abbiamo un ringraziamento per tutte le persone che hanno partecipato perché sono persone di qualità, sono persone del mestiere, sono persone che conoscono l'attività dell'accoglienza e naturalmente in queste situazioni, in queste occasioni c'è anche un interscambio di cultura della cucina. Vittoria meritata quella dell'Emilia Romagna con il ristorante La Fattoria del Mare di Riccione? Ma senza dubbio perché voglio dire la giuria è sempre al di sopra e per questo io partecipo volentieri è al di sopra di qualsiasi campanilistmo e quindi di conseguenza hanno votato con giudizio e senza pregiudizi. Trofeo Pescheria all'Acquario di Fossacensia qui sul Trabocco Pesce Palombo per il primo festival del Brodetto dell'Adriatico al ristorante La Fattoria del Mare di Riccione. Siamo con Nuccio Campli, emblema della enogastronomia nella nostra regione. Innanzitutto come hai trovato l'iniziativa? L'iniziativa è bella come sempre, è inutile oramai che io ti ringrazio, Paolo sia a te che alla tua organizzazione stai facendo veramente tanto, tanto ma seriamente. Io ripeto vedo tante trasmissioni a questi livelli ma sto usando una parola grande paragonandola a questi livelli che sinceramente non mi dicono e non mi danno la sensazione di quello che è da questa manifestazione. Quindi dalle casalinghe in cucina a queste, a tutto ciò che stai facendo per l'enogastronomia e la divulgazione del prodotto non solo tipico abruzzese ma del prodotto tipico italiano io ti ringrazio e credo che dovrebbero farlo tante persone perché veramente porti all'aria aperta delle cose meravigliose e delle cose naturali. Oggi ha vinto il Brodetto, ma che tipo di Brodetto è andato in scena sul Trabocco Pesce Palombo? Ma sono stati 5-6 tipi di Brodetto, però io sinceramente preferisco il tipico Brodetto il tipico Brodetto nostro con la semplicità, olio, aglio, peperone dolce e chi vuole peperone piccante, olio e pesce. Questo è quanto è prezzemolo e questo è il Brodetto di pesce. Poi bisogna avere l'accortezza di sapere usare e mettere bene i pesci al momento giusto perché ogni pesce ha una cottura diversa, ma qui sarebbe un discorso molto lungo da fare ma le buone casalinghe sanno che cosa devono fare, usare dell'olio extravergine d'oliva locale prima di tutto e quindi già il 50% è fatto lì, del buon pomodoro pelato e del pesce fresco si fa presto a fare del Brodetto di pesce. Il Brodetto può rappresentare l'emblema della cucina marinara italiana? Io direi abruzzese innanzitutto e poi italiana perché vedo che in tutta Italia si producono chi lo chiama Brodetto, chi lo chiama Zuppa, chi Acquapazza, chi Guazzetto nella Romagna c'è il Guazzetto perché hanno necessità di farlo subito in quanto sappiamo che è una regione che turisticamente è molto più avanti di noi allora hanno bisogno di fare questo tipo di secondo, questo brodo di pesce in un quarto d'ora e venti minuti e quindi ci vuole il Guazzetto e che è buono, è semplicissimo da fare e si fa presto. Santino Strizzi che manifestazione è stata qui a Fossa Cesia? Allora, un'idea bellissima questa di fare una manifestazione nel posto dove nascono i prodotti che abbiamo mangiato, c'è stata questa azienda che ha portato del pesce bellissimo e ognuno di noi sembrava di vedere un quadro La pescheria, l'acquario di Fossa Cesia? L'acquario di Fossa Cesia che era un quadro lì da vedere e sinceramente siamo rimasti ci siamo seduti a tavola ancora con quel quadro e poi abbiamo ritrovato il quadro in bocca sapori genuini, ottimi e i cuochi hanno dato il meglio che potevano fare. L'esperimento da ripetere insomma? Io ripeterei già stasera perché la cucina è fatta proprio in questo modo quando una persona si alza da tavola e ha ancora voglia di mangiare significa che ha mangiato bene, se uno si alza da tavola e è stomacato non vuole sentire più niente, ha mangiato male quindi io ho fame, quindi toglimi quello che me lo mangio quasi Sì, come dicevo prima è stata una bellissima iniziativa perché questo ci fa crescere nella cucina, nella cultura diciamo così e nella tipicità delle regioni l'Adriatico, dicevo prima, offre del pesce eccezionale ancora incontaminato, un pesce buonissimo oggi questa presentazione di Brodetti è stato veramente un connubio di sapori e di odori che ti fa capire un po' i prodotti genuini che ancora abbiamo in questa nostra regione in questa nostra Italia più che altro quindi diciamo così e poi fare un Brodetto non è molto facile è la pietanza più difficile da poter cucinare non è una cosa che tu vai in un strano e ti vuoi un Brodetto e si possa fare così anche se sono dei posti che lo fanno ma sempre su prenotazione che posso dire, io oggi veramente ho fatto un'esperienza nuova ho visto alcune cosette con degli abbinamenti che io non conoscevo ecco perché la cucina è cultura, la cucina è fantasia la cucina racchiude tante cose questi confronti qua fa crescere l'esperienza fa crescere la cucina italiana fa crescere un po' tutti per poter dare un prodotto di più al turismo italiano vogliamo ringraziare Paolo Minucci che ci sta dando un po' ci sta facendo crescere facendo queste manifestazioni perché ci sta portando a farci riscoprire un po' diciamo così i valori della vera cucina e facendo queste manifestazioni non fa altro che far conoscere cose che magari nel tempo l'abbiamo perso lui ci sta facendo ritornare un po' indietro far conoscere dei prodotti e delle cose che noi abbiamo un po' perso nell'arco dei tempi Lo chef Nico, l'assistente, la signora Rossanna l'amico Sergio questo fantastico trio del ristorante La Fattoria del Mare di Riccione primo posto al Festival del Brodetto dell'Adriatico Trofeo Pescheria l'Acquario davvero una bella manifestazione veniamo a commentarla con il titolare di questo ristorante se l'aspettava? No, no perché ho scoperto un sacco di cose alla fine ho dovuto scoprire che ho vinto e quindi è stata una novità grandissima che non me l'aspettavo a casa dei brodetti proprio vedo tanti di quelli insegni sono nevato, ho preso paura tutti fanno brodetti io però sinceramente devo ringraziare tutti ma devo ringraziare anche ho visto dei colleghi preparati seri, veramente professionalmente molto bravi quindi penso porto a casa questa esperienza che serve sicuramente specialmente per la signora ma per il giovane cuoco Nico Parliamo del suo brodetto che lei chiama Guazzetto perché in Romagna si chiama così è stata un'esigenza io dovevo accontentare in poco tempo quando il locale si riempie di dare i tempi, non so, di uno spaghetti i tempi di un tagliolino dovevo portare sul tavolo anche chi a un certo punto aveva Guazzetto ci siamo riusciti oggi ho avuto una conferma che forse lo facciamo anche bene non lo so così a meno mi hanno premiato prendo atto e ringrazio tutti di nuovo non poteva andar meglio il primo festival del brodetto dell'Adriatico trofeo pescheria l'acquario svoltosi nella suggestiva cornice del trabocco pesce palombo della famiglia Verri il primo posto come avete visto è andato al ristorante la fattoria del mare di Riccione in rappresentanza della regione Emilia-Romagna con l'equip guidata da Sergio Pioggia che l'ha spuntata di un soffio sul ristorante Federico II di Termoli in rappresentanza della regione Molise un ristorante guidato dallo chef Matteo Miucci terzo posto per l'Abruzzo rappresentato dal ristorante da Silvano di Francavilla al Mare con lo chef Silvano Pinti bene sono andate anche le regioni Marche con il ristorante Il Veliero di San Benedetto del Tronto con il cuoco e titolare Mario De Berardinis e le Puglie rappresentate per l'occasione dall'istituto alberghiero Einaudi di Foggia con il presidente dell'associazione dei cuochi del Gargano Mario Falco e i suoi allievi che si sono ben comportati a fare gli onori di casa oltre al titolare Bruno Verri e alla sua squadra anche l'ex campionessa italiana della cucina per casalinghe Concetta Raspa reduce da alcuni trionfi televisivi i piatti sono stati accompagnati dagli ottimi vini della cantina Ulisse di Crecchio ed anche dai vini della casa Vitivinicola Olearia di Vito di Vasto assieme alla cantina Santini di Corriano Rimini ad aglietare la manifestazione ci hanno pensato i bravi artisti Walter e Davide di Scafa con il loro Dubot davvero una bella manifestazione che ha visto in giuria il presidente dell'associazione dei cuochi di Villa Santa Maria Domenico di Nucci il suo vice Santino Strizzi ma anche esperti del settore come Giuseppe Luciani e poi ancora il presidente della Confcommercio di Chieti ed accademico della cucina Angelo Allegrino il noto enogastronomo Nuccio Campli e poi ancora l'enologo Silvano Fioravanti l'enogastronomo Tonino Mennilli Luigi Ulisse ed ancora per la stampa Fabio Lussoso di Reteotto ed Angelo Minucci per Cronache Abruzzesi